Silvio Fornacetti parte un progetto teatrale, un teatro pensato per i ragazzi, un teatro pensato per il sociale. Parte Officina Artistica, un progetto che nasce da me e Diego Sommaripa, che abbiamo proposto subito al Teatro Buon Consiglio, che ci ha accolto e al Santuario del Buon Consiglio, che poi ospita il teatro, è un luogo, un ambiente dove arte e educazione si fondono, dove i ragazzi impareranno e conosceranno tutto quello che è l'ambito artistico, scrittura creativa, canto, movimento scenico, dizione, recitazione cinematografica e teatrale e faranno anche qualche piccola esperienza di set, di compagnia, cercheremo di metterli a proprio agio. La cosa che ci teniamo a sottolineare subito è che questo progetto è pensato in primis per i ragazzi disagiati, quelli che sono spesso dimenticati. Noi li accogliamo in questa officina e poi a tutti i ragazzi che dai 5 fino ai 99 anni possono fare teatro e quindi possono partecipare ai nostri percorsi. Un progetto dunque pensato per il sociale, quindi questi ragazzi potranno accedere a queste lezioni, a questi corsi gratuitamente? Sì, i ragazzi disagiati saranno i nostri principali interlocutori e poi ci sarà una quota mensile per gli altri che invece potranno permettersi di pagare questa quota. Per essere appunto sociale va sostenuto e quindi va anche incentivato ed aiutato da chi può permetterselo. Quando partiranno questi laboratori? Il 18 ottobre alle ore 18 ci sarà l'open day dove presenteremo tutta la squadra di docenti che sono otto e parleremo e presenteremo il tutto e ci conosceremo. Da lì poi in accordo con i partecipanti inizieranno i vari laboratori i primi gratuiti proprio per capire se i ragazzi sono interessati a partecipare all'officina e poi di lì un work in progress pian piano. Nel gruppo dei docenti Giovanni Meola come si insegna il teatro ai ragazzi? Il teatro è un rituale fondamentalmente quindi noi cercheremo di trascinare i ragazzi che verranno alla nostra scuola, cercheremo di far vivere a pieno questo rituale in tutte le sue sfaccettature tramite chiaramente tutte le materie tecniche che andremo ad insegnare a questi ragazzi fondamentalmente. Io in particolare mi occuperò prevalentemente della dizione, della lettura espressiva, della recitazione teatrale e anche del movimento scenico, materie tecniche che cercheremo di far confluire e cercheremo di rendere fruibili a tutti i ragazzi sia che vogliano fare questo mestiere nella vita sia che non lo vogliano fare insomma. Il tutto nasce naturalmente con la direzione artistica di Salvatore Pinto. Esattamente, diciamo che da un po' di tempo a questa parte io c'ho la direzione artistica del teatro del Buon Consiglio dal 2019 dopo tre mesi poi il covid ci ha bloccati però io mi ero promesso di ripartire subito dopo qualora fosse possibile ripartire e quindi ringraziando in primis il rettore del santuario che è Don Ciro Sorrentino e il parroco Don Roberto Granatino per la fiducia ad Atami e per la possibilità di fare e creare. Abbiamo avuto questa bella idea, l'amico Silvio Fornacetti mi ha lanciato questa bella idea che ho accolto subito a braccia aperte perché anche a me in prima persona il teatro ha aiutato tantissimo nel sociale, nel crescere, nell'aprire la mente quindi perché non fare una casa del teatro, una casa per bambini, per adulti che vogliono approntare questo discorso teatrale. L'obiettivo di questo progetto è formare nuovi talenti ma ricordiamo che questo territorio ha già tantissimi talenti. Tantissimi talenti, torre del greco pullula di cultura, pullula di compagnie teatrali fortunatamente e quindi perché non ne creare altri dai cinque anni in su magari talenti e non possono affrontare questo discorso e capire che vogliono fare questo nella vita sia da professionisti sia da amatoriale come lo faccio anch'io da 18 anni ormai è una cosa bellissima perché è una passione che ti travolge. Quindi concluderei con una frase celebre del grande drammaturgo Eduardo De Filippo fare teatro significa vivere sul serio quelli che gli altri nella vita recitano male.